C'è una diffusa tendenza all'affievolimento e alla scomparsa della fede anche in paesi di tradizione cattolica, malgrado tutti gli sforzi fatti per rendere la liturgia più partecipabile. Il Santo Padre su questo non ha avuto peri sulla lingua nei tempi recenti. Certo anche molto dipende dal fatto che la nostra liturgia ha bisogno di recuperare quello slancio che pure il Vaticano II aveva dato, cioè lo sguardo a Dio e non lo sguardo agli uomini. La crisi della Chiesa è dovuta alla crisi della liturgia diventata senza regole, fai da te. Lo aveva già detto Papa Ratzinger quando era ancora cardinale sottolineando l'importanza della riscoperta del valore della liturgia. Ma quindi secondo lei c'è bisogno di un nuovo Vaticano II, c'è di cambiamento? C'è solo bisogno di mettere in pratica in maniera reale quella riforma della liturgia avviata già prima del concilio e necessariamente adesso da riprendere con rinnovato impulso. Il libro di Don Bux è stato presentato in un gremitissimo foyer del Petruzzelli nell'ambito di Book Show, il ciclo di incontri promosso dalla Commissione Cultura del Comune di Bari. La messa, ha detto Don Bux, è il sacrificio del martire per eccellenza Gesù Cristo, l'anticipo del paradiso.